ciao ragazzi bentornati oggi un video un po diverso dal solito come avevo promesso e premesso qualche settimana fa vi faccio vedere soprattutto sentire quanto importante il condensatore ai fini del suono del nostro strumento quanto cambia il timbro diciamo è proprio il suono cambiando semplicemente questo piccolo aggeggino sul nostro strumento in questo caso mio fan del jazz vi faccio vedere tutta la procedura vi faccio sentire un semplicissimo riff suonato in questo momento sono adesso con un vecchio condensatore quello che danno praticamente con insieme potenziometri metto tutto nel link e poi con il nuovo è un carta c'era della fende vi metto anche questo caso il link vi faccio sentire quanto cambia appunto il suono secondo me tanto però ci sta anche che mi dite che cavolo dici allora ci tengo a precisare che i collegamenti e le regolazioni quindi tono volume volume rimarranno identiche quindi ovviamente stesso basso stesso collegamento dal cavo vediamo se riesco a farvi vedere tutto dal cavo io entro qui nella scheda audio e basta non c'è altro tra me il suono che esce fuori quindi ci vediamo tra poco allora pick up al manico tutto chiuso pick up al ponte tutto aperto tono tutto chiuso apro tutto il tono apro il pick up al manico e richiudo tono apro il pick up a manico e richiudo tono quindi solo pick up al manico ho solo il pick up al manico apro il tono e lo finiamo penso che ci vediamo Apre il tono E ora andiamo a cambiare il condensatore Allora eccoci qui, cosa serve? Il condensatore, il cacciavite, un po' di stagno e credo basta Allora, il condensatore che ho scelto io, quello che uso da anni Dopo averne provate tantissimi, gli orange classici Che ora vi faccio vedere che danno insieme ai potenziometri Io mi trovo bene con questi Che non sono carta olio, che molti sostengono che siano migliori Sono carta cera della Fender Il valore è 0,5 MFD, 150 VDC Trovate tanto tutta la descrizione allegata Su cosa sono questi valori e perché ho scelto questi Allora andiamo a vedere come si cambia il condensatore Dovrà smontare nel caso di un Fender Jet In questo caso solo la control plate Ovvero questa placca dove dentro c'è tutta la parte elettronica Mentre per chi ha un precision, ad esempio Dovrà smontare un battipenna Quindi tutte le viti Insomma, in base al basso che avete Ci sarà una procedura diversa Vado Allora, eccolo qua Questo è il condensatore che avevo montato l'ultima volta Perché mi si era rotto purtroppo il mio amato Fender Questi sono i classici condensatori da un euro o poco più Che danno insieme a potenziometri CTS Sono quelli che utilizzo E se non sbaglio anche con quelli originali Fender All parts, qualcosa del genere Sono quelli che utilizzo su tutti i bassi I classici potenziometri Semplicissimi, diciamo I nonni bustina danno uno di questi Tanto non costa niente E a me non piace Quindi Dopo averne provati tantissimi Ora non ho Vi metto le foto di tutti i modelli che ho Anzi, ve li prendo Guardate quanti modelli esistono Queste sono le protezioni, se ti dicevo Nelle bustine danno questi Esattamente identico a quello che avevo a tonnet sul basso Quindi c'è una marea di questi Poi ci sono questi I famosi orange Che vi dicevo Di diversi valori Questi Poi ci sono questi 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 Sono ancora diversi Questi Altri valori Questo che è verde E altri Che non sto a farvi vedere Perché tanto avete capito il concetto Allora Ora vi faccio vedere come Si salda Il condensatore E la prossima volta Vi faccio vedere anche Come si scherma Un basso Soprattutto I fender jets O chi ha bassi Con pick up Single coin A mio avviso È una cosa Molto 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 Importante Basta un test Che si mette su Home Poi vi farò vedere nei dettagli Comunque in ogni parte della schermatura che si tocca Il risultato deve essere Questo Ovvero ci indica che c'è continuità E che le varie parti della schermatura sono collegate correttamente Questo si vedrà insieme la prossima volta Ora andiamo a vedere come si salda Il condensatore Allora io ho tolto quello vecchio Semplicemente era messo Così Quindi dobbiamo Tagliare una misura idonea E collegare Questa parte del potenziometro Questa linguettina Diciamo così A un punto di saldatura Che abbiamo creato precedentemente Sul potenzioso stesso Quindi sarà una cosa Di questo tipo Ovviamente va scorciato Perché ho messo un chilometro Quindi si intaglia Il pezzetto Senza essere troppo pignoli Potrebbe essere una cosa di questo genere Se siete in due è meglio Ma se siete in uno Come io Si fa lo stesso Allora Spende un po' di stanno Il saldatore è bello caldo Mi raccomando Questo è fondamentale Per tutto il saldatore Il circuito elettrico Il saldatore raggiunga Una bella temperatura Altrimenti Si fanno male Vado a dare un puntino di stanno Sulla linguetta Che abbiamo visto Un puntino Sulla saldatura Prendo il condensatore Basta pochissimo Fatto Spengo Vedete ho collegato semplicemente Come dicevo prima Io le chiamo linguette Ci sta che abbiano un altro termine Un altro nome Questa linguetta Col punto di saldatura Fatto precedentemente Il condensatore È correttamente collegato Fate Un pochino di gioco Per vedere se la saldatura Tiene A guata Quando andate a richiudere Il control plate Appunto Fate attenzione Che Non tocchi Diciamo Le pareti Dello scavo Le vanno Diciamo In questione E siate A posto Quindi Vado a richiudere Fatto Andiamo a vedere come si suona Eccoci tornati Allora Una volta cambiato Il condensatore Cerco di rifare Quello che ho fatto prima In modo identico Non sarà semplice Perché ho la memoria Molto corta E quindi parto Con Pick up Al manico Aperto Tono Tutto chiuso Pick up Al ponte Aperto Pick up Al manico Chiuso Tono Tutto chiuso Apro Tutto il tono Aperto Aperto Il tono Chiudo Apro Il pick up Al manico Quindi ho due pick up Aperto Apro il tono, chiudo il pick up al ponte, chiudo il tono, quindi ho solo questo. Apro il pick up al manico e apro, scusate, il tono. Spero di avervi fatto sentire la differenza che può provocare un condensatore rispetto a un altro. Personalmente la sento tanto, ci sta che non vi faccia il stesso effetto, ci sta che vi piaccia più quello prima rispetto a questo, perché i gusti sono sempre gusti. Quindi ragazzi, la prossima diciamo lezione sul setup e dintorni sarà sulla schermatura, quindi se vi interessa lasciatemi un commentino, un pollicino e quant'altro. Poi ci vediamo al prossimo video. Ciao! 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 Grazie.